Cos'è l'altro Giro? Un progetto che mette in circolo le cose che le persone non usano più. Quindi noi invitiamo le persone a portare le cose che non usano più, abiti, suppelletti, oggetti, qualsiasi cosa che sia in buono stato. In Via Toscana, la nostra sede, in Via Toscana 111, i ragazzi, i volontari, tante persone che collaborano con la Gulliver, rimettono in circolo queste cose. I cittadini vengono da noi, lasciano un'offerta, prendono un bene e con questa offerta vengono fuori queste opere che sono concrete e reali nella città. Quindi il cittadino ci porta le cose che non usano più e poi vede nel quartiere, in città, cosa viene fuori dalla sua donazione. I volontari sono la governance della Gulliver, sono quelli che si impegnano tutti i giorni e indirizzano la Gulliver. Io sono solamente il portavoce, quello che fa la sintesi, ma i tanti volontari, tante persone che collaborano con noi sono veramente la governance che poi decide dove far confluire gli incassi delle botteghe o le donazioni che riceviamo. Sicuramente il fatto di aiutare gli altri, la comunità, il mio quartiere, mi ha spinto soprattutto questo. Poi sono felice perché attraverso anche la Gulliver ho conosciuto anche nuove persone che prima non conoscevo e adesso mi trovo davvero molto bene. e spero soprattutto che altri, molti ragazzi, vengano qua a creare una specie di famiglia perché ormai noi andiamo lì ogni giorno e stiamo sempre insieme. Il mio lavoro all'interno della Gulliver è la selezione dei vestiti che ci vengono portati. Cerchiamo sempre di riuscire a tenere tutto perché molti vestiti sono sporchi o sono anche bucati e alcune cose non possiamo appunto tenerle per venderle. Ma cerchiamo sempre di prendere appunto di tutto, anche dagli oggetti della casa, cucina e questo comunque ci aiuta nell'incrementare le vendite. Penso che comunque a quasi 16 anni dobbiamo renderci conto di cosa significa essere cittadini. Essere cittadini non significa solo vivere la comunità esternamente ma aiutare come in questo caso tramite la Gulliver, tramite il volontariato a cambiare ciò che non va bene nel quartiere, nella città come in questa casa Villa Fastigi con questa iniziativa bellissima ma appunto aiutare in vari modi a modificare ciò che non va bene. E penso sia un'esperienza davvero bella e invito appunto tutti i giovani a partecipare.